Le agevolazioni della ZES e gli investimenti del PNRR rappresentano un'opportunità, ma la norma sull'autonomia differenziata può introdurre elementi di scissione, serve invece rendere conveniente un investimento sia a Ragusa come a Treviso. Questo in estrema sintesi è quanto emerge dal report presentato dal Centro Studi CNA di Ragusa, al centro delle novità negative dell'autonomia differenziata e le opportunità non ancora colte di ZES e PNRR. L'azione che CNA Ragusa vuole portare avanti è quella di far comprendere come un territorio che, guardato con grande attenzione dal mondo intero, se guardiamo i flussi turistici che invadono il territorio siciliano e quelli che arrivano nella nostra zona, non è possibile ancora subire questi danni. Se consideriamo l'autonomia differenziata che per il suo concetto dovrebbe attribuire competenze ai territori, poi non si concilia bene con quello che è il ragionamento invece delle ZES o del PNRR che vedono invece delle cabine di regia, di controllo di carattere romano. Quindi questi elementi li abbiamo messi in nero su bianco, che possono essere elementi di dibattito e discussione. Una grande organizzazione come la CNA, con circa 3.500 imprese associate sul territorio, con 2.600 pensionati, rappresenta una grande forza sociale. Noi nei sottotitoli abbiamo voluto evidenziare che ci sono rischi probabili e contraddizioni evidenti all'interno di questa norma. L'abbiamo fatto analizzando due settori particolarmente effervescenti da un punto di vista economico in provincia, che sono l'agroalimentare e il turismo. È chiaro che abbiamo voluto analizzare intanto le caratteristiche e i problemi che questi due settori attraversano. Ovviamente a questi problemi si dovrebbe poi ovviare tramite ZES, i fondi delle ZES e i fondi del PNRR, quindi rendendo questo territorio più attraente. Ma se da un lato dobbiamo rendere più attraente questo territorio e dall'altro invece dobbiamo sostenere, o si deve sostenere, una legge che nei fatti crea delle differenze, tant'è che l'hanno chiamata autonomia differenziata, si va in forte contraddizione. Quindi nello studio tutto questo chiaramente emerge e i dati evidenziano questa nostra preoccupazione. Rafforzare il tessuto imprenditoriale della provincia di Ragusa. Il 31 luglio 2024 censite 37.247 imprese. Di queste attive sono 31.922, composto principalmente da micro-imprese, un rafforzamento che richiede investimenti in infrastrutture, digitalizzazione e sostenibilità ambientale, come previsto dalla ZES unica del Mezzogiorno e dal PNRR, quanto emerso dall'analisi fornita dal Centro Studi della CNA territoriale di Ragusa, che nel report messo a disposizione offre un quadro complesso della situazione economica e infrastrutturale della provincia di Ragusa. Nonostante la vitalità dell'agroalimentare e del turismo è stato chiarito in occasione del report, che ha attivato un focus su entrambi gli aspetti, emergono criticità significative legate a due noti analizzati, siccità e carenze infrastrutturali. Il ritratto infrastrutturale è stato chiarito altresì e l'altro ostacolo allo sviluppo economico. In Italia su 107 province, Ragusa è 92esima per rete stradale, 96esima per quella ferroviaria, 73esima per la portualità. In conclusione è stato precisato che il rafforzamento del tessuto imprenditoriale Ibleo richiede una strategia integrata, che non solo affronti le sfide ambientali e infrastrutturali, ma che promuova anche la crescita dimensionale delle imprese e l'attrazione di nuovi investimenti. Serve evitare che braccia, mano d'opera specializzata e laureati del sud si rechino al nord. Per fare questo bisogna avere chiaro un concetto, le imprese nascono e crescono dove si sta bene e dove si creano condizioni coerenti per stare bene, viceversa se si creano circostanze contraddittorie si genera sotto sviluppo.